Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. A Catania, via Piazza Liosto 25. Prego. Sì, buongiorno Avvocato. Lei è un Avvocato amministrativista, giusto? Sì. Da quanto esercita questa attività? Dall'82-83. In questo arco temporale è anche ricoperto incarichi di natura politica? Sì, sì, sì. Vuole dire al Tribunale quali? L'assessorato all'urbanistica ai tempi, la presenza della commissione edilizia. In quale comune? Paterno, no, in quale comune. E poi successivamente al comitato regionale di controllo e poi alla regione siciliana, servizio strategico dell'assessorato territorio ambiente. Queste sono le sue esperienze. Per quanto riguarda proprio le cariche politiche che lei ha ricoperto, mi chiedevo, in quale partito lei militava all'epoca? Ah, la democrazia cristiana. La democrazia cristiana a un certo punto non ci fu più. In quale partito si riconobbe? La mia unica militanza, diciamo così. Sì, ma quando si è sciolto, si è sciolto. Dopodiché con chi è stato? In quale partito? In quale? In quale partito si è riconosciuto? La democrazia cristiana. Basta, non si è cristiana, fino alla fine. E come esponente politico locale, chi è il suo punto di riferimento? Il mio punto di riferimento, diciamo così, il mio maestro, tra cui l'etero è Lombardo, Nino Lombardo. Non ce ne sono tanti, Lombardo. Insomma, la mia formazione politica è avvenuta, politica anche culturale, perché lui era noto, diciamo così, per avere pochi voti, ma diciamo... E poi successivamente ho anche intrattenuto ai rapporti politici con l'onorevole Firarello, specialmente quando era componente della commissione antimafia. Sì, mi scusi, presidente. Al microfono. Dicevamo con l'onorevole Firarello, questi rapporti politici con l'onorevole Firarello, fino a quanto durano? Come pubblico mistero? Questi rapporti, diciamo, di natura politica con l'onorevole Firarello, questa intesa politica, fino a quando dura? Durano fino al Garibaldi, perché poi non li abbiamo... Io non ho intesso coltivare. Mi sembra comprensibile. Appunto, arriviamo allora al Garibaldi. Sì. Lei, siamo in quali anni? Si ricorda qual era l'anno? Sì, 97 la gara. Nel 1997 lei che incarichi ricopriva? Ero al Comitato regionale di controllo, con particolari incarichi da parte del presidente D'Affuri per le opere, per le gare d'appalto. Che d'altra parte forse era anche il suo settore di lavoro? Sì, assieme... Avvocata a miseria di vista. Sì, assieme all'urbanistica, sì, è il mio settore di lavoro notevole al Taro, al CGA, sì. In quel periodo lei mi disse, lei mi ha detto che ha, come dire, incrociato la strada dell'iter procedimentale del Garibaldi. Mi spiega come entra in questa vicenda? Chi la tira in ballo? Chi mi tira in ballo nel processo Garibaldi? Non nel processo, intanto nell'appalto, il processo verrà poi. Nell'inchiesta Garibaldi. Nell'appalto Garibaldi, nell'iter amministrativo dell'appalto Garibaldi, lei come entra e quando entra? Nell'appalto Garibaldi al direttore generale dell'azienda ospedaliera. Sono stati fatti dei nomi, tra cui il mio, probabilmente, anche dal senatore Firaletti. Il direttore generale come si chiama? Il direttore generale è Mangione. Mangione Roberto vuole dire? Mangione Roberto, sì. Venne fatto il suo nome per fare che cosa in quell'appalto? Quale sarebbe stato il suo compito? Per far parte della commissione di valutazione dell'offerta anomale. Insieme a lei chi era in questa commissione? Il capo del genio civile, l'ingegnere Sciottino. Poi di diritto ci faceva parte il direttore dei lavori, che era l'ingegnere Ursino. La nomina di una commissione deputata a valutare anomalie era già prevista nel bando di gara o fu un'iniziativa, diciamo, autonoma? La giurisprudenza si orientava in quel periodo, era praticamente una funzione di assistenza al seggio di gara. Queste valutazioni, ritengo, a parole di determinata giurisprudenza, le valutazioni sull'anomalia avrebbe potuto assumerle anche il seggio di gara autonomamente. Per questo le chiedevo. Però era, diciamo così, molto spesso veniva nominata a una commissione di supporto. Molto spesso. Di fatto lei venne nominata. Non al Garibaldi. Sì, è chiaro. Quindi era, anzi, la maggior parte delle volte veniva nominata a una commissione di supporto. Lei ha detto poc'anzi che fu segnalato a Mandrone dall'onorevole Firarello. Sì. Che lei ricordi, prima di questa nomina, dopo questa nomina, lei ebbe contatti con Firarello, che è un oggetto a questo contratto, di proposito oppure en passant? Se fu preavvertito di... Se lei fu preavvertito e se dopo la nomina ebbe modo di parlarne con Firarello. Sì, dopo la nomina ebbe avuto modo di parlare con Firarello. In generale o in particolare le questioni? No, anche in particolare. Ora ci ritorniamo. Volevo chiederle, lei entra in gioco nel periodo che va dal 3 all'8 settembre, come prima, per utilizzare la sua espressione della prima fiesta temporale, che vede il suo intervento, dal 3 all'8 settembre del 97. Il periodo temporale è l'intero mese di settembre, dal 3 al 30 settembre. Ma è la prima volta che viene chiamato in causa? Sì, all'inizio di settembre. Si ricorda quali erano le imprese che avevano chiesto di partecipare all'appalto? Le più importanti. Le più importanti ovviamente. Le più importanti erano la Costanzo, anche se ai tempi era in amministrazione, in legge Prodi. Poi c'era la Romagnoli, che era la CGP di Romagnoli e SRL, che era in associazione di impresa con un'altra. E poi, diciamo così, a completare il gruppo delle imprese che materialmente si sono contese all'appalto, poi c'era la Coggeco di un certo Randazzo. Anche lei è associata a un'altra impresa. Erano queste le tre. Poi c'erano altre. Ma diciamo, quelle che avevano il maggiore requisiti erano queste tre. Quelle che poi hanno, sì, diciamo così, quelle piazzate in posizione utile sulle quali una decisione o un'altra della Commissione Anomalia poteva incidere sulla loro vittoria, erano queste tre. Quando lei venne chiamato a valutare l'eventuale anomalia, quali erano le imprese per le quali si sospettava che non fosse l'offerta regolare? Allora, quando noi abbiamo iniziato i lavori, la situazione era questa. La prima in classifica era l'impresa Costanzo. La giurisprudenza, questa volta consolidata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e del Consiglio di Stato, diceva che la prima, la giudicataria, è la prima giudicazione, è la giudicazione definitiva. E solamente se c'è un pronunziamento di anomalia, questa situazione viene ad essere rimosso. Se manca, se non esiste, oppure è contrario, il provvedimento di anomalia, allora la giudicataria della prima sera, diciamo così, conferma la sua definitività. Quindi questo è importante perché nel corso del processo, avrò e chiudono parentesi brevemente, perché nel corso del processo ci si è chiesto perché non avessimo firmato una relazione di anomalia negativa. Non ce l'ha bisogno perché l'ha mancata... Aspetti, avvocato, seguo il mio linee di pensiero, perché qui non replichiamo il processo Garibaldi, ovviamente, ma cerchiamo di comprendere come sono andati i fatti. Quindi la giudicataria era la Costanzo. La Costanzo, sì. Lei viene interpellato per comprendere se questa offerta era o meno anomala? Lei è la commissione di cui lei faceva parte? Certamente, perché con un procedimento matematico si determina una soglia cosiddetta dell'anomalia. La Costanzo si classificava e sopra questa soglia, quindi era soggetta ad essere valutata. Ed era solo la sua offerta sopra soglia anomalia o anche altre offerte? Si comprensero a collocare. Con l'avvocato Fragalà, noi abbiamo un prospetto che può aiutare, forse vuoi, a capire... Intanto me lo esponga, poi vediamo anche il prospetto. Magari se l'avvocato nel frattempo me lo fa vedere, valutiamo se può aiutare la comprensione. Non penso che seguiamo Drakia, però diamo Dolo. Comunque, la Costanzo è prima... La prima è la... La giudicataria è la Costanzo. Se nel corso del procedimento viene a determinarsi un pronunziamento di anomalia, viene Elisa e si passa alla seconda. E qual era la seconda in quel momento? La seconda, in una prima fase, era la Coggeco di Randazzo. Era la Coggeco di Randazzo. Nella prima fase in cui lei viene interpellato, giusto? In cui la commissione viene interpellata. Ecco, in questo momento in cui lei viene interpellato sulla anomalia dell'offerta a Costanzo, ha avuto modo di... la commissione aveva un'animità di vedute intanto? La posizione? La commissione, mi scusi se mascherine... La commissione aveva un'animità di vedute sull'anomalia o meno dell'offerta? No, la commissione, nella persona mia e dell'ingegnere Sciortino, ha sempre ritenuto non anomala l'offerta a Costanzo. Tenga presente che sono stati appositamente convocati i dirigenti della Costanzo, nel corso di due o tre riunioni che sono durate a lungo, operazioni che avremmo potuto anche non fare. Appunto, nel corso di queste riunioni, loro hanno giustificato uno ad uno i loro prezzi. E che la valutazione dell'anomalia consiste proprio a questo, cioè se il ribasso che pratica l'offerta è sostenibile sul mercato oppure no. E da quanto ci hanno illustrato loro con documenti, non c'era una particolare improbabilità. Tant'è vero che nel corso di queste operazioni io mandai anche un fax all'ingegnere Ussino, che invece era di parere contrario. E Ussino vi argomentò... Ingegnere, alla luce di queste considerazioni e ancora più alla luce del prezziario regionale, guardi che questa offerta non è anomala. E l'ingegnere Ussino cosa ribatteva? L'ingegnere Ussino? L'ingegnere Ussino era contrario a questa vostra posizione. L'ingegnere Ussino era una possibilità... Ma io le chiedevo, questa loro valutazione, posto che erano entrambi dei tecnici, si fondava su argomentazioni o era a prioristica? O era una valutazione che davano come a tutti i fatti? Che li ricordi? L'hanno spiegato perché erano di questo avviso? Allora, il cavallo di battaglia per chi sosteneva che era anomala era che essendo in legge Prodi aveva una operatività limitata. Tant'è vero che era una delle battute che circolava, che ci veniva molto spesso ripetuta, era che la Costanzo avendo assunto i lavori di raddoppio del binario ferroviario qui da qualche parte lei aveva messi nei guai all'amministrazione della ferroviario dello Stato perché non riusciva a stare d'appresso a questi lavori. Quindi era una giustificazione però di natura... Ipotetica. In generale, diciamo così, la vera analisi dei costi non ci portava a chiudere su questo. In questa fase qualcuno esterno alla Commissione Anamalie ha avuto modo di interloquire con lei o con altri della Commissione patrocinando l'uno all'altra posizione? Sì. Sì? Sì, sì. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda lei, ovviamente avvocato, lo dico ora, non lo ripeterò, lei deve dire ciò che è il suo ricordo personale, ciò che ha preso nel processo per noi è rilevante. No, certamente, certamente. Allora, in questa fase chi le avvicina? Io sono stato avvicinato da un soggetto che, diciamo così, a Paternò conoscevamo tutti quanti, eravamo compagni di banco, insomma, compagni di scuola. E questo soggetto a un certo punto poi aveva assunto la presidenza della squadra del Paternò, insomma, era un tipo molto brillante, oggetto di visite, anche di autorità. Si chiama? Ma, Mirenne. Giuseppe Mirenne, sì, con il fallimento delle sue, poi fallì ovviamente, e da quel momento in poi penso che, no, penso, si è buttato nelle braccia della mafia. Ricordo che mi venne a trovare, la mia percezione di questo soggetto però, più che delinquente ai tempi, era di un soggetto, un venditore, insomma, un tipo poco serio sotto il profilo dei comportamenti, insomma, uno sbruffone. E quindi lo trattai da, perché, insomma, io ero stato nello studio Mazzei, avevamo seguito alcune vicende che lo vedevano coinvolto, quindi aveva fatto delle truffe alla banca. Quindi non aveva fiducia, ma lui in definitiva chi patrocinava? Cosa voleva da lei? Lui, a Giatrudo, si presenta come rappresentante della CGP di Romagnoli. E quindi io mi messi a ridere, perché valutandolo appunto come un truffatore mi sembrava strano che, diciamo così, un'impresa di quel genere poteva affidarsi a uno come Mirenne. E invece, devo dire che poi mi telefonò Romagnoli veramente, Giulio. Per dirle che era effettivamente un suo emissario? Come? Per dirle che Mirenne era un suo emissario effettivamente? Sì, mi raccontò la storia dell'impresa e la mamma era palermitana, insomma... Va bene, tutto questo lo possiamo mettere. Ma in quel momento, quando Mirenne parla con lei, Romagnoli aveva una chance? Perché, per quello che lei mi ha detto poc'anzi, o era il Costanzo o era la Coggeco di Randazzo. Non aveva assolutamente una chance, perché nella... ecco perché è importante quello schema, perché se dichiaravamo anomala... Diamo atto di cosa mostriamo al Presidente. Presidente, non per interrompere, siccome chiaramente si riferisce a questi dati delle imprese che noi siamo un po' più agevolati perché conosciamo, questo è uno schema, diciamo, dei passaggi che lui sta seguendo, se può servirvi per seguirlo meglio semplicemente nell'articolazione dell'esame. No, serve anche a me per far capire. E mi vorrei farlo avere al Presidente così, perché lei ha chiari tutti i passaggi, non è... Il PM è d'accordo su questa produzione? Sì, per me non c'è problema, chiediamo alla difesa. Credo che sia un atto, se ho capito bene, che è stato già prodotto al processo d'appello. L'Avvocato Penuso, con tutta la buona volontà, è un schema a uso personale della politica. Sì, a uso personale. Per cui non riteniamo che possa essere significativo di alcun che, tranne chi dei dati che riguardano soltanto lui e conosce soltanto lui. No, non c'è come poter... Se ho capito bene, è una produzione al fine di capire meglio quello che dice il test. Come lo più preciso è lo stesso schema che venne prodotto nel processo Garibaldi, Garibaldi, quando spiegò queste cose per esplicitarle anche, sempre per fare seguire il filo del discorso. Non è una fonte di prova per i dettagli. Non è una fonte di prova, è solo per... Non c'è una posizione sostanziale della difesa. No, 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 è solo per seguirvi voi. Deve, il senso del diputato. Quindi diceva, in quel momento non c'era alcuna chance che la Romagnoli potesse... Quali che fossero le vicende della Costanzo in quel momento, quando lei parla con Mirenna, la Romagnoli poteva vincere questa gara? No, perché la situazione ottimale della Romagnoli durò solo due giorni, dall'8 al 10 settembre si trovava sotto la Costanzo e sopra Soglie. Il 10 settembre, attraverso un esposto della Coggeco, la cui valutazione legale è stata affidata all'Avvocato Seminara, attraverso le risultanze di questo parere dell'Avvocato Seminara, vengono ad essere rimescolate le medie e quindi la Costanzo si trova sempre prima e sotto di lei c'è la GEPCO, cioè la Randazzo. E quindi praticamente la posizione utile di Romagnoli dura un giorno, dall'8 al 10. Il 10, con questo parere dell'Avvocato Seminara, la situazione è Costanzo, la Soglie di Anomalia è sotto la GEPCO. Tenga presente che l'avvocato... Non è Coggeco, mi scusi, lei continua a dire GEPCO? GEPCO Randazzo. E Coggeco è sempre Randazzo? Ah? Coggeco è sempre Randazzo, perché negli atti leggo Coggeco, non GEPCO? Coggeco sono in associazione di imprese, Coggeco e Coggeco. Ah, ecco, va bene, ora è più chiaro. Quindi Randazzo, GEPCO e Coggeco sono la stessa. Va bene. Quindi dicevamo, quando viene Mirenna, lei non gli dà conto. Oltre a Mirenna, che lei mi dice, di cui già mi ha parlato, sia sotto il profilo personale che dei rapporti con la mafia che in quell'epoca già si comprendevano, qualcun altro le ha parlato in quel periodo? Sì, ma non di Romagnoli, di Randazzo. Sì, chi? Con tutti i distinguo, perché la mia autonomia con Firarello, diciamo così, era riconosciuta da entrambe le parti. Quel rapporto di maestro io ce l'avevo con Nino Lombardo, non l'ho mai avuto con Fino Firarello. Però anche lui, con un atteggiamento di grande rispetto, rispetto nei confronti della decisione che io avrei assunto, mi parla di Randazzo. E me lo manda... E? E gli dà il telefono, arriva in studio. Le mandi in studio Randazzo Medecimo? Quindi lei parla al telefono con Giulio Romagnoli, che peraltro ha chiamato col nome di Battesimo, poc'anzi, e parla allo studio con Randazzo. Sì, e poi se devo essere onesto, mi cercano anche quelli dell'impresa Costanzo. Mi pare giusto, a quel punto per una par condicio. Però, lei comunque è per la non anomalia dell'offerta di Costanzo, e rimane fermo su questo punto? Assolutamente, sì. Nonostante il suo sponsor politico le chiedesse di favorire la Coggetto. Sì, e nonostante che a un certo punto il dottore Mazzone ci porta, nel corso di una riunione dell'anomalia, l'ingegnere Mazzone ci porta un'impresa che esibisce dei documenti che, secondo loro, dimostrano la falsità della documentazione Costanzo esibita in gara. Quale impresa? Quale impresa? Quale impresa mi porta che dice questa cosa? O meglio, quale rappresentante? Sì, era un'impresa di mister Bianco, non lo ricordo. Andiamo, lei rimane fermo dov'è? Gli altri componenti della Commissione che erano contrari, quindi Ursino e poi a parte Mazzone che era, vi incontrate più volte, cercano di portarvi dalla loro parte? Sì, certamente. Nell'arco del mese di settembre abbiamo fatto decine e decine di incontri e di riunioni. Persino di domenica? Sì, persino di domenica l'ultima, sì. Ora, se lei ferma la sua attenzione sugli ultimi incontri che avete avuto? Sì, sì. Ecco, mi vuole dire se in questi incontri cristallizzate le due posizioni poi si è in qualche modo cercato di sbloccare il risultato? Allora, il 25 di settembre noi abbiamo avuto l'ultima riunione e ancora una volta si vengono a creare queste due posizioni. Io peraltro con quel fatto che si avevo spiegato a Ursino che a tenore del preziario regionale stabilisce che gli oneri generali per un'impresa equivalgono ad una data percentuale. Gli oneri generali tra la CGP e tra le altre perché erano tutte non catanesi e la Costanzo per la Costanzo equivalevano a zero perché aveva gli uffici e le cave a 10 metri dal cantiere. Bastava questo a elidere, diciamo così, il gap che aveva qua. Però la posizione è quella di cui abbiamo parlato poco fa. Fino a quando poi il 25 non fermiamo questa posizione, insomma non siamo d'accordo per questa anomalia della Costanzo. E l'ingegnere Ursino però a un certo punto diceva vabbè facciamo un'ultima ricognizione del lavoro che abbiamo fatto e domenica facciamola nel mio studio. Dov'è il suo studio? In Pialo d'Origo da Pordenone, accanto alla Sicilia. Una posizione a caso. E allora? E quindi ci siamo visti lì? L'argomento era sempre il solito, diciamo così. Ecco perché è importante dire che la declaratoria di anomalia rimuove la giudicazione perché per noi fino a quando non c'era questa declaratoria ufficiale la giudicazione era Costanzo. Questo è chiaro. Questo è chiaro. Nel corso di quella riunione accadde qualcosa di strano che lei non si immaginava di essere accadere? No, il discorso era sempre questo, diciamo così. E poi a un certo punto di strano c'è che l'ingegnere Ursino si sente a telefono con il dottore Ciancio. Era la prima volta che lei aveva sentore del fatto che Ursino aveva interloquiva con Ciancio? No. Anche altre volte era accaduto? Sì, nel corso delle riunioni era, diciamo così. Adesso mi spiace perché il signor Ciancio mi pare che sia deceduto, quindi non può. Però questa cosa l'ho detta anche prima, quindi non c'è nessun problema. Evidenziava sempre questo suo rapporto con il dottore Ciancio? Evidenziava perché lo diceva che aveva questo rapporto con Ciancio o evidenziava perché lei aveva modo di constatare che interroguiva magari telefonicamente con lui? No, evidenziava, lo diceva. Lo diceva lui? Ma, mi scusi, Ciancio, nel Garibaldi, nell'appalto del Garibaldi, che c'entrava che lei sapesse? Aveva una ragione formale per interessarsi alle vicende dell'appalto che lei sappia oppure no? La ragione formale per interessarsi all'appalto? Aveva partecipato con le sue imprese? Aveva un interesse di qualunque genere formale che riusciva, che veniva fuori dalle carte? No. Nessuno? L'unica, guardi, l'unico ricordo che ho, ma sempre di questi discorsi di ursino, così era che avevano o stavano trattando con Costanzo l'acquisto di una televisione di Costanzo, che avevano questi rapporti. Quindi rapporti con Costanzo. Ma non per l'appalto. Scusi, ma se lei avesse dichiarato l'anomalia, non l'anomalia, no, l'anomalia, come chiedeva ursino, Costanzo sarebbe stato favorito? Se avessimo dichiarato un'anomalia di Costanzo, Costanzo usciva fuori. E dichiarava l'anomalia e la richiesta di ursino? Sì. Bene, allora in questa riunione stiamo arrivando a questo. Ursino era al 100%, diciamo così, convinto che l'offerta Costanzo fosse a no. Sì, però stiamo parlando di un'altra cosa. Durante la riunione Ursino parla con Ciancio, chiama lui o viene chiamato? No, la riunione è tra noi della commissione anomalie. Poi a un certo punto si sentono a telefono, non ricordo se lo ha chiamato lui, propenderei più per il fatto che lo ha chiamato lui, perché faceva parte, diciamo così, di questa messa in scena. A un certo punto si sentono a telefono il dottore Ciancio, dice, ha saputo che siete qui, vorrebbe conoscervi. E quindi andate dal dottore Ciancio? E quindi ci siamo spostati dall'altra parte. Nello studio del dottore Ciancio? Nello studio del dottore Ciancio. Che è lo stabile della Sicilia per intenderlo. Che è lo stabile accanto, sì. Chi è andata da quell'altra parte? Chi siete? Chi siamo? Sì. E siamo Ursino ovviamente che fa la parte del padrone di Cass, io, Shortino e Mazzoni. E Mazzoni? Mazzoni, sì, anche questa presenza di Mazzoni noi ce la siamo spiegata fino a un certo punto, perché Mazzoni, voglio dire, era il direttore tecnico, ma non faceva parte della commissione, ma lì. E poi Rursino lo aveva, diciamo così, invitato. Quindi lui lo invitò. Beh, ma D'Artone era palestra che loro due avevano la stessa idea, e la loro idea era che Costanzo doveva essere Elisa. Quindi andata da Ciancio, chi c'è con Ciancio? Da solo, insieme ad altre persone? Ma guardi, io ricordo che c'era una segretaria anziana, era lì di domenica, no, ma era da solo, lui era da solo. Lui in stanza eravate da solo. Ma c'era questa segretaria anziana che sbagliava a prenotare biglietti di aereo, o forse di questo genere. E come si svolse questo colloquio? No, molto. Avete parlato di amenità varie? Sì, molto cordiale, di cinema, anche di film, sì. Del terremoto che c'era stato qualche giorno, qualche settimana prima. Quindi una conversazione fra gentiluomini, diciamo così. Ciancio è uno spessore culturale notevole, voglio dire che è stata una conversazione anche piacevole. È stato un cordiale padrone di casa, vi regalò qualcosa? Oh sì, dei libri pregevoli, sì. A lei, a tutte e quattro? No, a Mazzone no, questa cosa ci è rimasi male, perché come mai a Mazzone non hanno questo libro? Quindi a lei, devo desumere a Sciortino? Ero un po' imbarazzato, perché a me e a Sciortino, sì, a Mazzone no, poveretto. Forse eravate voi gli ospiti. Questo poi l'ho acquisito in seguito, i rapporti tra Ursino e Mazzone erano risalenti al tempo del primo lotto, ma è tutto un altro discorso. Ma quello non lo sapevi in quel momento. Ai tempi non lo sapevo. Nel corso di questo colloquio, in realtà quanto è durato questo colloquio con... No, no, un bel pezzo, sì. Un'oretta, mezz'ora? Sì, sì, sì. E in qualche modo si parlava anche del Garibaldi? Alla fine, alla fine. Cioè, ma state facendo... Che tipo di riunione state facendo lì? E abbiamo detto che era per le anomalie. Sembra il microfono? Ah? Parli al microfono, per favore. Sì. Era per le anomalie. Avete parlato così genericamente o avete anche spiegato più o meno quale è il punto della discussione? Non ho spiegato, no. Ma insomma, non mi è sembrato che c'era bisogno di spiegare. Cioè, se siamo scesi nei dettagli dei numeri della classifica... No, dei numeri no. Ma se la decisione è la prossima a essere presa, se vi erano difficoltà, se le posizioni erano diverse, di questo se ne parlò oppure no? Molto superficialmente si evidenziarono, diciamo così, le due posizioni che erano quella di Cussino e Mazzone da un lato e quella mia e di Sciortino dall'altro. Sì, questo risultò poi evidente. E c'è anche San Filippo in qualche modo intervenne nella questione oppure no? San Filippo intervenne in una maniera, diciamo così, perché ci invitò a fare... disse, fate le cose per bene, diciamo così. E quindi un consiglio che avrei potuto darvi anche io come pubblico ministero è fate le cose per bene. Sì. Giusto? Lei così lo percepì? Beh, fate le cose per bene con il braccio appoggiato nella spalla di Cussino quindi significava che le cose per bene almeno questa... Lei percepì... abbiamo avuto io e Sciortino le cose per bene erano quelle propugnate da Ursino. Quindi, mentre pronunciava queste frasi Ciancio aveva la mano sulla spalla di Ursino? Sì, no. Questo mi sta dicendo lei lei ha percepito questo? Cioè, lei ha visto questo? No, questo l'ha visto. Questo l'ha visto e lei ha detto fate le cose per bene, lei capì? Sì, fate le cose per bene altrimenti con questi appalti è facile finire in galera finirete in galera. Ah, ecco, finirete in galera. No, è facile finire in galera sì, per... e quindi poi se finite in galera poi io dove mettere le testine Cosa sono le testine? Le fotografie piccole degli arrestati sul giornale se in prima pagina o in una pagina interna poi lo decido io però diciamo così sì, in una maniera molto discorsiva sorridente sì, sì, sì quindi con il sorriso l'ha detto di fare le cose per bene è che si dischia il carcere e poi lui avrebbe deciso di mettere le foto sì questo, capisco bene sì, questa diciamo così obiettivamente il discorso è stato questo la percezione che volesse patrocinare la posizione di Ursino l'ha avuta solo lei o anche Sciottino? Ne avete parlato, voglio dire? sì, poi quando siamo usciti ovviamente Ursino è andato via con Mazzone siamo rimasti io e Sciottino e abbiamo commentato l'avvenimento lo abbiamo legato alle altre segnalazioni che ci erano state fatte quindi Firarello e tutto il resto è stata non dico la goccia che ha fatto tra però ci ha molto ci ha molto preoccupato questo questo ulteriore ulteriore intervento che Ursino aveva determinato ci ha molto preoccupato nel senso ci ha fatto capire che insomma c'era questo interesse all'alti livelli su questo su questo appalto variegato insomma ci ha messo in grande imbarazzo tutta questa vicenda ma quest'ultima d'altronde era l'ultima sera poi l'indomani ma quest'ultima no no mi scusi lei ha detto imbarazzo ora prima ha detto preoccupazione è un conto essere imbarazzati un conto essere preoccupati vi spiega perché l'una e perché l'altra espressione che l'hai utilizzato ma guardi preoccupati Catania è una città insomma che si regge su preoccupati avete valutato la possibilità di dimettervi? sì certo a quel punto sì in conseguenza del discorso con Ciancio? a quel punto sì perché era diventata insostenibile cioè è una valutazione serena nostra era diventata difficoltosa con tutte queste diciamo così le cose lei ha avuto una segnalazione da Fisarello al quale comunque è legato un rapporto di non dico di di riconoscenza perché non è così ma comunque di stima di collaborazione quello che vuole e gli ha detto di no serenamente perché lei non gli ha detto manco di no diciamo lei ha continuato per la sua strada ritenendo che c'era la mia e anche lui non ha insistito voglio dire attenzione diciamo che a certi pelli non è manco il caso poi parla con Mirenna che lei già qui al momento sapeva che potrebbe essere vicino ad ambienti mafiosi così le ha detto e non lo prende in considerazione giusto? non prende in considerazione l'invito di 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 si cambia l'idea viene dal ministero che su Mirenna per esempio poi è uscito fuori che un solo l'incontro che in sentenza è stato ritenuto decisivo in effetti si è svolto dopo la gara lasci perdere la sentenza dobbiamo parlare di quello che le si ricorda poi lei parla con Randazzo nel suo studio e non cambia idea lei Giulio lei lo chiama Giulio non dottore signore ingegnere Romagnoli e lei va per la sua strada segue quello che è la tecnica e la scienza lo chiamo Giulio cioè mi chiamano Romagnoli lei ha detto mi hai chiamato Giulio quindi io suppongo che lo chiama di nome no 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 comunque lei chiama anche Romagnoli e lei va per la sua strada e segue sempre quello che è la tecnica lei induce a ritenere cioè che l'offerta non è anomala si arriva un signore a G che le dice con garbo le ha regalato prima un libro e l'ha ricevuta nel suo studio le dice è meglio che si comporti in modo come si deve e lei a quel punto si preoccupa ma me lo spiega perché ma guardi questo se mi è consentito uso le parole di Mire Mirenna voglio dire quando Mirenna viene interrogato dai pubblici ministeri anche dal procuratore capo a un certo punto gli chiedono di questi interessi diciamo così e lui dice si vabbè vi parlo di tutto tutto il resto l'ho detto ma per quanto riguarda questi poteri economico-finanziari catanesi io ho paura di parlare di questa gente di queste cose e non ve ne parlo sono dei verbali in cui lui si esprime precisamente in questo modo ho capito e quindi lei mi risponde con queste parole e quindi voglio dire Mirenna è uno che bene o male è assistito militarmente io no lei comunque sia quella sera nonostante tutto pur valutata la possibilità di dimettersi comunque sia non si dimette giusto non si dimette poi noi non ci dimettiamo perché il rapporto di Sciortino con Mangione erano compagni di ban compagni di scuola ai tempi e quindi quando Sciortino ha ventilato io ovviamente mi sentivo in posizione ero in posizione subordinata rispetto al capo d'ingegno civile di Catania e quindi quando lui ne parlò con Mangione di questo disagio in cui noi ci trovavamo a lavorare di questo estremo disagio Mangione lo pregò di soprassedere perché se voi sostanzialmente se voi due vi dimettete e ve ne andate qui l'ospedale non si farà più bene cioè non di meno lei non torna indietro e comunque non dichiarano allora forti di questa giurisprudenza del Consiglio di Giustizia che se non c'è rimozione dell'offerta anomala noi abbiamo deciso con Sciortino che attraverso il nostro fatto che diventa un fatto giuridico andarsene dalla riunione non è andarsene alla Ponsio Pilato è un fatto giuridico perché andandocene viene a mancare la relazione d'anomalia che è l'unica che può sottrarre alla Costanzo la giudicazione questo è un concetto che io ho spiegato male nei tempi non sono riuscito a farlo transitare bene io ho compreso bene ma a questo punto arrivati Costanzo comunque non si giudicherà questa gara quando lei decide di rimanere nella sua posizione chi avrebbe dovuto vincere la gara in quel momento cioè al 27 settembre chi doveva vincere la gara allora per come si erano messi i numeri con il parere seminara se noi la sera del 30 questa famosa sera dal dottore Ciancio avessimo dichiarato anomala l'offerta della Costanzo per come erano messi i numeri avrebbe vinto la Coggeco sponsorizzata tra virgolette da Firarello perché noi mai avremmo non sapevamo che in realtà l'offerta era stata true sappiamo poi della sentenza che è stata ingiudicata allora quella sera se noi dichiaravamo anomala firmavamo Mazzone camminava con la relazione dell'anomalia già pronta dovevamo solo metterci la firma quindi quella sera se noi firmavamo l'anomalia che Mazzone aveva appresso per quanto sapevamo noi vinceva Randazzo ci dirà la sentenza che è stata ingiudicata che però l'offerta della Romagnoli venne mutata a notte tempo esattamente bene a quel punto cosa accade? se firmavamo un'anomalia eravamo convinti di favorire la Coggeco esatto tenga presente che la Coggeco è sotto soglia quindi essendo sotto soglia non può più essere non può più essere messo in discussione esatto è aggiudicatario e basta non è soggetto a valutazione e invece avrebbe favorito chi? e invece avrebbe vinto con una cosa che si è scoperta dopo due giorni avrebbe vinto la CGP di Romagnoli perché avevano la Romagnoli quella stessa che l'aveva sponsorizzato esattamente e di questa cosa poi noi io e Sciurtino abbiamo avuto percezione la sera del 30 quindi se firmavamo il 28 o avremmo favorito se firmavamo il 30 avremmo favorito il CGP ma non abbiamo filmato né il 28 né il 30 Mazzone lei mi ha detto ma vorrei che me lo dicesse con chiarezza era sulle stesse posizioni di Ursino sì sì certamente Mazzone ha confessato che poi si è preso 100 milioni di lire voglio dire molto candidamente ha confessato che Ursino gli aveva regalato anche altre cose nel primo lotto quindi sono fatti notori ho capito la sentenza poi ci dirà che è Mazzone che ha fatto modificare l'offerta a un certo punto appena io e Sciurtino ce ne siamo andati e loro hanno letteralmente abolito la commissione e si sono avvalsi di quella possibilità di cui parlavamo proprio all'inizio di dichiararsela da soli anomala all'inizio abbiamo parlato a questo punto chiedo a lei della sua qualità ma la commissione che era stata comunque istituita dava un parere che era non vincolante era possibile perpassarla così come è stato fatto sì perché quella stessa sera appena siamo andati via io e Sciurtino il direttore generale sono in atti queste cose il direttore generale ha confezionato un incarico a Mazzone in cui sostanzialmente aboliva l'esistenza della commissione e gli dava in carico di relazionare lui da solo come ufficio tecnico successivo sotto il profilo amministrativo è perfettamente legittimo lei poi queste cose le ha sapute successivamente cioè ciò che aveva fatto l'avete firmato in quale data l'avete saputo l'indomani primo ottobre perché anche in quell'occasione avete detto eravamo a genio civile proprio lui è sceso e cosa avete risposto a Ursino lei e Sciurtino come? cosa avete risposto a Ursino no niente completamente non l'avete firmata ma quindi l'ultimo contatto è del primo ottobre sì anche dopo l'ultimo contatto che avete con Ursino su questo argomento è l'1 ottobre l'1 ottobre sì lui quando lui ci invita per diciamo così non lasciare Mazzone non lasciare Mazzone scoperto in questa cosa ci invita a firmarlo a posto va bene e qui avevamo invece la percezione esatta che avrebbe che l'anomalia sarebbe stata a favore dei CGP di Romagnoli il 30 e l'1 a differenza del 20 avrebbe diciamo sostenuto di più perché la sera del 30 già il trucco il cambio dell'offerta si era palesato va bene io ho altre domande grazie va bene